La primavera ormai è esplosa e tra il verde brillante delle prime foglie che colora i boschi ritorniamo oggi in Alpecampra al limitare dell'ultima neve che imbianca ancora le cime. La primavera ormai è la primavera. Partiamo ancora una volta da Gagnone da dove saliamo ad Orcesco e alla Crotta sovrastati sempre dalla mole del pizzo ragno che si staglia ancora innevato sopra le foreste nuovamente verdeggianti. Grazie. 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 Grazie a chi Andrà. Grazie a me인� Grazie a noi. Abbiamo ormai raggiunto il ripido prato della Motta, ultima salita prima dell'alpeggio. Alla prossima. 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 Alla prossima.